Anche gli abruzzesi si preparano a vivere questa terza Pasqua all'insegna della pandemia. Il Covid non fermerà le gite fuori porta, i pranzi in famiglia e le grigliate con gli amici, ma per evitare che nell'uovo di Pasqua ci sia la spiacevole sorpresa di una positività, ecco alcuni consigli utili su come trascorrere queste feste tranquillamente. Al nostro microfono il professor Giustino Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Santo Spirito e responsabile del Covid Hospital di Pescara. Fondamentalmente è ovvio che c'è una riapertura che si basa sulla diffusione della vaccinazione e per fortuna sugli ottimi dati sulla quarta dose che ci annunciano che con i vaccini attuali, senza aspettare altro, abbiamo la possibilità di un forte rinforzo dell'immunità sicuro e durevole. In questo contesto che quindi depenalizza il virus, tutte le restrizioni di sistema si riducono. Cosa è intelligente? È intelligente essere a questo punto attenti soprattutto a se stessi, cioè in tutti quanti quegli ambiti in cui la grande circolazione delle persone e la circolazione di persone magari che vengono da ambiti diversi dai nostri e quindi possono essere più facilmente portatori del virus, il lavaggio delle mani deve essere maniacale e l'uso della mascherina mirato tutte le volte appunto che pensiamo che questo possa proteggerci. Tenendo presente è comunque il vero punto oggi e far ricorso il più presto possibile alla giusta dose vaccinale che ciascuno di noi deve fare. Chi non ha fatto la terza si affretti a fare la terza perché è quella protettiva, è stato dimostrato anche sul grande lavoro abruzzese del professor Manzoli. Chi può fare la quarta adesso può fare la quarta serenamente perché la quarta funziona e non fa danno. Queste nuove varianti sembrerebbero essere molto più contagiosi ma meno pericolose, però l'attenzione deve essere sempre alta. Sono meno pericolose perché siamo più vaccinati, sono molto contagiosi e quindi diciamo che hanno messo una parola tombale sulla ipotesi cinese, cioè se riparte la circolazione del virus chiudiamo le città, chiudiamo il paese e fermiamo il virus. Questo non è il virus che si ferma totalmente con le restrizioni e con le limitazioni, quindi l'unica strada è quella, ribadisco, di una immunità vaccinale completa, tre dosi, quattro dosi quando è necessario. Queste varianti chiaramente ci trovano sempre più vaccinati ed effettivamente stiamo vedendo la stragrande maggioranza di casi leggeri o leggerissimi, pochissima interferenza sul percorso di clinica di coloro che si infettano durante un soggiorno ospedaliero o comunque per altre azioni sanitarie. Per fortuna prendendo gli antivirali non cambia niente, non ci sono peggioramenti, quindi è una cosa molto buona. Quindi ci devono preoccupare soltanto per un fatto, che dobbiamo essere pronti a convivere con questo virus, non ce ne libereremo, è troppo contagioso e quindi dovremo arrivare a una convivenza pacifica e la convivenza pacifica significa vaccini. Per intanto proteggiamoci quando è opportuno.